174 i nuovi casi di covid oggi in Abruzzo e quanto emerge dall'analisi di 3.238 tamponi molecolari e 1.987 test antigenici per un tasso di positività complessivo del 3,3%. Il più giovane tra i contagiati ha un anno, il più anziano ne ha 94. La provincia più colpita, dove si registrano 89 casi, è quella dell'Aquila, dove a preoccupare è soprattutto la zona della Marsica. 54 casi nel Terramano, 13 e 6 rispettivamente nel Chietino e nel Pescarese. 6 dei contagiati invece provengono da fuori regione e per altrettanti sono in corso verifiche per accertarne la provenienza. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 21 nuovi casi e sale a 2.269. Dei decessi odierni, 8 sono avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL. 302 sono i guariti. Attualmente in Abruzzo vi sono 10.261 positivi accertati, 149 in meno rispetto a ieri. Lieve callo degli ospedalizzati, 553 pazienti, 16 in meno rispetto a ieri, sono ricoverati in terapia non intensiva, 59, 5 in meno rispetto a ieri ma con 6 nuovi ingressi, in terapia intensiva. Mentre gli altri 9.649, 128 in meno rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL.